Oggi vi insegniamo a fare la crema di pittacchio. Ci serve il latte, lo zucchero e il cioccolato, il pittacchio e il burro. Siete pronti? Per prima cosa dobbiamo mettere i pittacchi nell'acqua calda. Adesso che li abbiamo fatti cuocere, li facciamo raffreddare e poi li togliamo le pellicine. Allora, abbiamo bucciato i pittacchi. Adesso mettiamo i pittacchi in goccia di latte e lo zucchero dentro al frullatore. Per prima mettiamo i pittacchi. Poi un goccio di latte. Poi mettiamo tutto il zucchero. Adesso facciamo partire con l'ultra velocità. Uno, due, tre. La velocità è bruttissima! Dobbiamo mettere il cioccolato, il bullo, il latte e poi mettere bene dentro la pentola. Allora, prima il cioccolato. Poi il burro. Poi tutto il latte. Ma è già partito? Wow! Buono e colare bene bene. Gira, gira. È cotta. Gira, gira. Gira, gira. Cora con le patate. Una volta che si è sciolto, mettiamo la crema di pittacchio dentro la pentola. Adesso che abbiamo fatto cuocere, l'ideale è mangiarla con il panino. Buon appetito! Buon appetito!